Qual è l'aiuto che dà la CGL in questo senso? La CGL prima di tutto sta a fianco ai lavoratori a sostenerne le ragioni sui posti di lavoro e poi nel territorio quello che stiamo provando a fare, che da qualche tempo stiamo provando a mettere insieme una iniziativa diffusa che porti comunque in questo territorio a una nuova progettualità perché noi siamo convinti che questo è un territorio che deve ritrovare la sua identità industriale per prima e poi anche per quanto riguarda in termini di prospettiva deve fare un'elaborazione che permetta comunque di guardare a un futuro dove è chiaro, bisogna ripartire dalla ricerca e dell'innovazione, chi fa ricerca e innovazione può avere comunque un futuro ma per fare questo bisogna partire dalle risorse disponibili, dalle risorse anche dai progetti disponibili ecco in questo caso la cosa che dobbiamo misurare è che purtroppo neanche i progetti che stavano in campo che in questi ultimi anni sono stati annunciati non portano ancora a nessun posto di lavoro e sicuramente c'è un progetto che riguarda l'area di crisi complessa l'area di crisi complessa dove si sta lavorando, si sta andando avanti, si stanno analizzando i progetti pervenuti ma ad oggi non abbiamo ancora contezza di che cosa significa e qual è effettivamente la prospettiva che matura lì ma ce n'è anche un'altra tutti i progetti che sono stati annunciati per quanto riguarda il master plan le risorse, sembrava insomma che a Terramon stavano arrivando centinaia di milioni che potevano aprire cantieri dappertutto guarda questi annunci sono andati avanti per due anni però ad oggi noi non abbiamo nessun cantiere aperto nessun posto di lavoro e allora da questo punto di vista io penso che la politica terramana in modo particolare che si avvia anche diciamo una fase di confronto importante nelle prossime settimane deve provare a recuperare comunque una capacità progettuale che permetta a questo territorio di mettere insieme quelle che sono comunque le speranze che ci stanno nel territorio le sappia in qualche modo coniugare con la fattibilità reale delle occasioni di lavoro che sono necessarie di creare le speranze che ci stanno nel territorio